Io lo sapevo, è tornato immacolare, il padrone è ritornato. Sta per sbocciare. E te basta che pensi a sti fregnacci? Una volta ti piacevano quando ti regalavo. È rimasto un piatto di pasta arburo di ieri. Sua eccellenza la vuole riscallata? No, no, lo sai che a me a pasta arburo mi piace più fredda immacolata. Oddio, mamma mia, è buono! Io lo sapevo, io lo sapevo che prima o poi... Oddio, oddio, oddio! Se manco Davide ti ha detto niente vuol dire che allora proprio non ha visto. E non ha visto no immacolare, è cieco! Ma quando sei spiritoso? Ma perché non ti è piaciuto? Ah sì che mi è piaciuto, che c'entra? Oh, ma Marcello è amico mio eh! Se per questo è mio marito, e allora? Dai, sbrigati! Ma perché? Ma le chiavi! È finita! Mi baguama! Ma che è successo? Ma niente, non è successo niente! Ma te non andavi depressione? E io andavo depressione! E fa depressione! Vabbè, 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 vabbè! E allora? Oh, ma che sto por' là! Ma vuoi guardare? Ah, ma là? Ce n'è roba piu' Cozza! Non c'è prova più